C'è uno spiraio sulla vicenda tavica che interessa il porto rifugio di Gela. Ad annunciarlo è il deputato regionale del Partito Democratico, il gelese Peppe Arancio. Più volte nelle ultime settimane gli operatori portuali e pescatori hanno chiesto interventi immediati al Presidente della Regione, Rosario Crocetta, chiedendo un porto rifugio agibile e fruibile con tutti i servizi connessi che un porto richiede, così come accade in altri siti siciliani bagnati dal mare. Perché un porto agibile richiama numerosi fruttori e offre la possibilità agli operatori di lavorarci ogni giorno e ogni giorno i pescatori possono utilizzarlo, così come i turisti, ed invece il porto allo stato attuale e all'abbandono. Ieri ho avuto un'interlocuzione con Crocetta anche perché c'era questa necessità che venisse, venissero, diciamo, che iniziassero i lavori del dragaggio del porto di Gela. Praticamente ho avuto questa interlocuzione e ho avuto notizia che praticamente Crocetta ha avuto rapporti con Eni che sono disponibili a mettere i quasi 5 milioni di euro che servono per i lavori, così come stabiliti al tavolo della protezione civile con l'ingegnere Foti. Quindi occorre, questo è un invito, poi chiamano il sindaco, glielo comunicherò, che è l'amministrazione formalmente i dichiari che vuole fare e mettere a disposizione i soldi per il dragaggio e per le opere di completamento del porto. Quindi questa è una notizia che diamo alla città perché iniziano i lavori e finalmente i pescatori, i diportisti, tutti coloro che lavorano fornendo servizi all'interno del porto potranno riprendere e mettere in moto questa microeconomia.